Salve a tutti, oggi vi presento la nuova versione del Transpilot Bulli Superior semielettrico. Sul canale avete sicuramente visto il modello precedente, ma ci sono alcune novità nel design e una caratteristica speciale. Il design del timone è stato rinnovato, come potete vedere è ergonomico, ha questa forma a cuore. Il carrello ha una doppia velocità, con questo pulsante è possibile attivare la tartaruga, quindi dimezzare la velocità. Un tastino di accensione con la LED blu e il claxon. Il tasto di emergenza è antischiacciamento. Questo carrello ha il sollevamento manuale, l'abbassamento manuale, mentre la movimentazione avanti e indietro va elettricamente. Le novità quali sono? Sono queste, praticamente è stato modificato il vano della batteria, ora andiamo a spegnerlo, blocchiamo il tasto di emergenza, la batteria è diventata estraibile. Per un cambio rapido, quindi è possibile acquistare un paio di queste batterie, tenerle cariche e se si è su una linea produttiva o a ciclo continuo, si sostituiscono al volo, quando si scarica una si mette quella carica, si reinserisce velocemente, si disattiva il tasto di emergenza e successivamente basta piacciare il tastino per avviarlo. Il carrello porta 15 quintali, alle forche standard 115x54 con i rulli doppi in vulcola e la ruota motrice in vulcola. Freno elettromagnetico, carica batteria integrato con il cavo sciuco estraibile. È un ottimo prodotto da utilizzare, molto versatile anche sui camion, all'interno delle corsie dei grandi magazzini, ovunque ci sia necessità di assistere l'operatore nella movimentazione. Tutto qua. Questa è tutta logistica, se volete maggiori informazioni chiamate al numero di telefono oppure inviate un'e-mail e visitate del sito. Buona giornata.